Cari concittadini, ho quest'anno il piacere di rinnovare gli auguri per le sante feste durante il periodo natalizio. Abbiamo iniziato un percorso oltre un anno fa che sta dando i frutti. In quest'anno trascorso abbiamo affrontato problematiche che per decenni sono state frutto di discussioni, come l'acqua, dove la nostra amministrazione insieme a voi, andando a raccogliere quelle che erano le criticità, sta finalmente affrontando una a una e lentamente le stiamo superando. Dopo anni di immobilismo l'amministrazione in modo forte ha messo davanti le esigenze di tutti i cittadini di Gera. Stiamo continuando a gestire e a modificare quel protocollo d'intesa che abbiamo ereditato, andando a migliorare con il dialogo le parti dove è possibile intervenire, garantendo una maggiore occupazione e accelerazione sui cantieri. Davanti a noi si apre adesso un'altra grande possibilità rappresentata per il Patto per il Sud, dove finalmente il nostro territorio può avere una serie di risorse che consentiranno di dare delle risposte a delle zone che per molto tempo sono state trascurate, come via Martinica, come la zona a nord del museo, come via Recanate e tante altre zone che da anni aspettano interventi di urbanizzazione primaria. Oltre a questo stiamo operando in tanti tanti fronti. Le cose che erano messe da parte, accantonate e dimenticate erano diverse. Magari vi erano molti interventi immediati o che davano quelle risposte abbastanza visibili, ma che dimenticavano quegli angoli importanti della nostra città che per troppo tempo sono stati trascurati. E' intenzione di questa amministrazione continuare con lo stesso passo, con la stessa intensità, con la stessa costanza e con la stessa testardaggine. Sicuro che le lamentele che qualcuno dice vengono dai cittadini in realtà sono delle richieste ben chiare e molte di queste richieste sono fondamentali. Ci rendiamo conto che non è possibile fare tutto immediatamente, però ci rendiamo conto che tutto quanto per poter essere fatto bisogna iniziarlo. E questo noi lo stiamo facendo con l'aiuto di tutti. Quindi a nome del Consiglio Comunale, di tutta la Giunta e di me in prima persona, auguro a tutti un sereno Natale e soprattutto un 2017 che ci possa consentire di avere una speranza per un futuro migliore con la certezza che tutti insieme siamo in grado di farlo.